Linea dura contro chi sgarra, non solo street control per la doppia fila, Salerno il Comune mette nel mirino gli incivili che parcheggiano abusivamente la propria auto negli spazi riservati ai disabili. In arrivo ganasce e multe più salate. Ad annunciarle l'assessore alla mobilità Mimmo De Maio che sottolinea l'impegno contro un malcostume diffuso. Introduciamo il ricorso alle ganasce per particolari casi significativi che possono creare seri problemi a partire da questa attitudine che abbiamo riscontrato in alcuni casi di lasciare le auto parcheggiate negli stalli dedicati ai portatori di handicap. È una cosa che non possiamo accettare, quindi da questo punto di vista interveremo con il sistema delle ganasce attraverso un dispositivo che abbiamo articolato insieme a Salerno Mobilità che credo possa essere un ulteriore deterrente per chi non rispetta quello che deve essere considerato il minimo del vivere civile, in particolar modo come dicevo prima, per quanto riguarda gli stalli per i portatori di handicap, oppure in altre condizioni che possono creare problemi seri al sistema della mobilità, sempre partendo dal presupposto che le ganasce possono essere inserite comunque su auto che non intracciano nella posizione in cui si trovano comunque il flusso della mobilità nel suo complesso.